in effetti qua noi che ce la faremo giù in skate dobbiamo prestare attenzione perché arrivano giù a sparare perché arrivano dalla francia capito quindi accelerano dicono uii l'italie l'italie in pratica adesso prendiamo gli skate e andiamo a fare un giro in paese però è tutto in discesa andiamo a fare un giretto in skate penny tutto volevi volevi ma di cosa parliamo mettere la mascherita oi ragazzi ragazzi ci hanno appena urlato human safari bella questo video per te perché ci somigliamo sono grandi nicolò da bergamo grazie 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 Prima volta a Varazze, stupenda, non c'ero mai venuto ma merita. E' un po' di poche, stupenda, non c'ero mai venuto ma merita. Non c'ero mai venuto ma merita. Io pago con il liberato della segnità. Non so prendi questo. Non pagare figa, devi pagare. Pagalo, pagalo. 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 Oh man, come ti fai man? Non mi voglio scherzare questo Let's do this man, let's do this No Come esci fuori da lì però Eh, è stra difficile scherzare Ma come, ma come figa No, puttana Vai adesso, vai vai Non mi vedo No, stai tornando We got it man, we got it Man Ma partiamo da line Di cosa parliamo? E' una fake line In stile bergamasco Strinaggi No, no 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 Grazie a tutti